Una magia che invade l'arena di Verona ogni anno immacabilmente con lo stesso slancio, anzi sempre maggiore. Per il quarto anno consecutivo l'etuale Roberto Bolle ha incattato il pubblico dell'anfiteatro romano con lo spettacolo Roberto Bolle in France. Una notte di danza durante la quale si sono avvicendati i ballerini più talentuosi a livello mondiale, da Herman Corneio a Melissa Almiton, da Misa Curanaga a Anna Hall, Young Guy Choi, Polina Semionova, da Lynn Simkin. Un viaggio di assoli e passi a due attraverso classici del balletto, Don Quixote, La Bayadere, Smeralda, ma anche un percorso tra i capolavori della danza contemporanea. Energia, tecnica, bellezza, vibrazioni ed emozioni, celebrazione di una potenza muscolare con un trionfo estetico ammagliante. Un coinvolgimento del pubblico invitato nell'intervallo dall'attore Francesco Pannofino a rendere visibile l'emozione che stava provando, illuminando la danza con una corale Ola con i telefonini, con un effetto finale davvero magico. Meraviglioso, meraviglioso. Adesso di qua, là! Vai, di nuovo! Di là, così! Che meraviglia! Sembra proprio un'onda gigantesca, guarda! Allora, se io che meraviglia! Questo bellissimo momento di dichiarazione d'amore per la danza la potrete trovare e rivedere tutto a disposizione sui social. Va bene? Adesso, Roberto, facciamo un piccolo intervallo e poi riprendiamo con la magia. Grazie, Roberto Bolle, grazie a tutti voi! Grazie a tutti!